Ha visto la propria bambina di appena un anno e mezzo giocare con una siringa sporca di sangue e l'ha subito trasportata in pronto soccorso. Questo è il pomeriggio di terrore che hanno vissuto due genitori aretini. Il caso è successo a Campo di Marte, nel giardino che vedete alle mie spalle. Ci troviamo ovviamente nei pressi della stazione ferroviaria di Arezzo. Una volta arrivata in pronto soccorso è stato accertato che la bambina si era punta con la siringa usata. Sono stati dunque effettuati i prelievi del caso, ma la bimba dovrà fare altri accertamenti. È una vergogna, è una vergogna assoluta. Io lavoro, sono al pubblico, non mi vergogno di metterci la faccia. Io ho un figlio di 10 anni e io non so cosa gli spetta a questo bambino mio. Perché domani, quando sarà qua, che cosa fa? Con chi si va a scontrare? Con gente che gli propone la droga. Una zona, quella di Campo di Marte, di certo non nuova al ritrovamento di siringhe sporche e usate, come ci conferma il consigliere comunale Meri Cornacchini, che ne ha raccolte una sessantina proprio nei giorni scorsi. Dove la trovate le siringhe? Allora, praticamente io lo trovate intorno ai giochi, vicino allo scivolo e nel perimetro circostante il Campo di Marte. La rimozione viene fatta costantemente, però durante il giorno purtroppo la situazione continua a degenerare. Quindi ci vorrebbe una persona fissa che sta lì a rimuoverle ogni volta che le buttano in terra. Ti trovi ragazzi che si iniettano la dose anche senza crearsi problemi di chi passa, ma ragazzi giovani.